Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Samuele e oggi siamo in un nuovo vlog Prima di tutto volevo dirvi che avevo pensato di comprarmi Alien Isolation per poi caricare la storia nel canale Così non lo so, novità, vi piacciono? Vabbè, me lo scrivete nei commenti se vi va bene Poi ho pensato di caricare la storia di Lego Marvel perché ho visto che il cazzeggio Cioè, ho caricato il cazzeggio, non so se avete visto Ha avuto molte visualizzazioni Per questo volevo vedere se facendo la storia si avevano altrettanto di visualizzazioni E... c'è freddo, molto freddo Comunque volevo dirvi che, anche se sì, avevo detto che sarebbe stato un po' complicato caricare video spesso Però, ho notato che posso caricare almeno un video Non so se un video alla settimana o un video ogni due settimane Comunque state tranquilli che un video lo carico, questo è sicuro Poi novità l'apparecchio, non so se l'avete visto Altra novità Ho... ho comprato The Evil Within E volevo sapere anche in questo Voglio sapere un po' troppe cose Sono curioso Volevo sapere se Voleva... cioè, mi va bene Se carico la storia anche di The Evil Within Poi... a parte... questo Mi devo sbrigare perché se entra mia mamma E si fa Oh, Zamore, con chi cazzo parli? E... Vabbè, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace Commentate quello che vi ho chiesto di commentare Iscrivetevi e ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti